Sgarbi si è dimesso da sottosegretario pur di non dimettersi da Sgarbi. Questo era l'inizio del mio caffè di stamattina sul Corriere. Potremmo anche chiuderla qui, ma vi leggo anche il resto. Lo faccio per voi, ha detto, alla platea milanese a corsa a sentirlo parlare di Michelangelo. Per continuare a deliziarvi con le mie conferenze a pagamento, senza che l'indegno ministro San Giuliano, sostiene lui, inoltre all'antitrust le lettere anonime che mi accusano di fare queste conferenze. La frase rivela una curiosa concezione del senso dello Stato. In teoria è il sottosegretario che lavora per i cittadini, non il conferenziere. Ma Sgarbi, che è un incommensurabile presidente della Repubblica dei fatti suoi, non ha mai considerato gli incarichi pubblici come servizi da rendere, ma piuttosto come onorificenze da accumulare. E lui è così, una delle tante buone cose di pessimo gusto cui abbiamo fatto l'abitudine, al punto che da tempo ha perso il potere a cui forse tiene di più, quello di stupire. Non ci sorprende più, non ci sorprende quando augura la morte all'intervistatore di Report e si giustifica affermando che così fanno tutti, anche se io non conosco nessuno che abbia mai augurato la morte in pubblico o a qualcun altro davanti alle telecamere facendo il gesto di abbassarsi la patta dei pattaloni. E non ci sorprende nemmeno quando si dimette attaccando il suo ministro, che per la gioia si sarà divorato in un pomeriggio l'intera cinquina dello strega, non so se vi ricordate la famosa gaffe di San Giuliano, non ci sorprenderebbe neanche se domani ritirasse le dimissioni e facesse pace con San Giuliano. ci stupirà solo il giorno in cui riuscirà finalmente a fare pace con quell'ego opprimente che è il segreto, ma anche il limite, della sua fortuna.